Pagnanelli, il progetto delle aree di risulta è arrivato in Consiglio Comunale, c'è stata la presentazione da parte della maggioranza di quella che è più di un'idea. Il Partito Democratico ha delle idee diverse per quanto riguarda quest'area strategica della città di Pescara. La delibera che viene oggi in Consiglio Comunale è identica a quella portata in Consiglio Comunale, nell'ultimo Consiglio Comunale, dall'amministrazione Alessandrini. Si tratta dell'approvazione di una variante che ha già seguito il suo iter con l'adozione e le osservazioni e oggi pertanto viene approvata. Quindi non è cambiato assolutamente nulla e il centrodestra, che quando era all'opposizione era contrario, è osteggiato in tutti i modi, presentando anche innumerevoli emendamenti per bloccarla, oggi la ripresenta in forma identica, cambiano soltanto le firme dei presentatori. Poi parallelamente presenta una mozione, un ordine del giorno, che va a fare delle modifiche sul progetto, ma che nulla riguarda la questione urbanistica. La verità è che sulla questione urbanistica, quindi sulla variante che viene in Consiglio Comunale, il centrodestra ha cambiato completamente atteggiamento e questa cosa pecca di incoerenza, perché mentre noi del Partito Democratico oggi voteremo a favore, nonostante siamo all'opposizione, perché si tratta del prosieguo di un iter portato avanti da noi, il centrodestra invece passa da essere totalmente contrari a essere favorevoli. Magnarelli, all'interno del centro-sinistra però c'è anche una frattura, perché i consiglieri della lista Sclocco-Sindaco si sono dissociati dalla vostra idea, dal vostro progetto? Perché? Ma i consiglieri Sclocco e Frattarelli non erano nella scorsa consigliatura, il consigliere Frattarelli per poco tempo, quindi probabilmente non hanno partecipato. L'unica cosa che mi viene da pensare è che non avendo partecipato all'iter che ha portato a quella stesura non l'abbiano condivisa e oggi decidono di fare un percorso autonomo all'interno del centro-sinistra. Per quanto riguarda la posizione del PD ribadisco la coerenza nel portare avanti quello che abbiamo portato avanti negli ultimi tre anni. Sì, sono pure nelle circostanze particolari che mi portano a esercitare quella che di fatto è una supplenza, e dicevo scherzando che solo a un docente poteva capitare una cosa di questo genere. La cosa importante è che in Consiglio Comunale oggi arriva la delibera per l'avvio della procedura per la riqualificazione delle leade di risulta. È una delibera che volevamo approvare al termine precedente consigliatura, ci fu uno istruzionismo che impedì questa cosa, di fatto si è perduto un anno, ma torniamo a questo, quindi siamo rammaricati dell'anno che si è perso ma simbolicamente trovo un fatto interessante che proprio oggi questo progetto riparta e Pescara come tutto il paese hanno bisogno che le opere si realizzino, opere fatte bene che possono rilanciare il nostro sviluppo perché invece proseguire con l'inerzia e non fare le cose ci condannano a dei ruoli sempre più marginali.